Sono la corruzione e la distrazione che allontanano dall'incontro con il Signore. Il cristiano non deve cedere al male, ma vivere nella speranza. È la raccomandazione espressa da Papa Francesco nella messa celebrata stamani presso la cappella della Casa Santa Marta. La liturgia ha permesso al pontefice di soffermarsi sulla fine del mondo attraverso le immagini di Gerusalemme, che non si sentiva bisognosa di salvezza, e di Babilonia, che si sentiva padrona del mondo. Perché la corruzione ti dà qualche felicità, ti dà potere, e anche ti fa sentire soddisfatto di te stesso. Non lascia spazio per il Signore, per la conversione. La città corrotta. E questa parola, corruzione, oggi ci dice tanto a noi. Corruzione, non solo corruzione economica, ma corruzione con tanti peccati diversi. Corruzione con quello spirito pagano, con quello spirito mondano. È più brutta, corruzione, è lo spirito di mondanità. Eppure Papa Bergoglio ha messo l'accento sulla speranza. Gesù ha affermato, ci esorta ad alzare il capo, a non lasciarsi spaventare dai pagani. Questi hanno il loro tempo e dobbiamo sopportarlo con pazienza, come il Signore ha sopportato la sua passione. Quando pensiamo alla fine, con tutti i nostri peccati, tutta la nostra storia e tutto, ma pensiamo al banchetto che gratuitamente ci sarà dato e alziamo il capo. Niente depressione, speranza. Ma la realtà è brutta. Ci sono tanti, tanti popoli, città, gente, tanta gente che soffre, tante guerre, tanto odio, tanta invidia, tanta mondanità spirituale, tanta corruzione. Sì, è vero. Tutto questo cadrà. Chiediamo al Signore la grazia di essere preparati per il banchetto che ci aspetta col capo sempre alto.